Parafrasando Ernest Hemingway potremmo dire per chi suona la campanella e il riferimento chiaramente è alla scuola italiana dal 14 settembre scorso giorno della riapertura sino ad oggi la campanella è suonata e si è zittita diverse volte per gli istituti scolastici. Oggi dopo due mesi forzati di stop a causa della pandemia e di didattica a distanza specie per le scuole superiori gli istituti di ogni ordine e grado hanno riaperto i battenti scuole tutte aperte anche nel capoluogo di regione a Campobasso l'amministrazione Gravina ha predisposto un potenziamento delle corse che dal terminal degli autobus viaggiano verso i plessi scolastici del capoluogo. Siamo stati al convitto nazionale Mario Pagano insieme al rettore Rossella Gianfagna che ha parlato di questa nuova partenza e dello stato d'animo che l'ha accompagnata. Devo dire che quest'anno è molto emozionante abbiamo una serie di primi giorni di scuola quindi anche oggi sono passate le aule a dare il benvenuto ai ragazzi soprattutto il buon anno non soltanto anno scolastico ma perché ci eravamo lasciati a dicembre è stata un'emozione di nuovo vedere le classi piene. A differenza dei precedenti blocchi dell'attività didattica in presenza che avevano riguardato solo le superiori l'ultima frenata ha invece investito anche medie ed elementari in precedenza rimaste aperte. Purtroppo eravamo pronti anche dopo Natale a riaprire come tante scuole e siamo stati diciamo fermi chiaramente capisco forse a noi mancano i dati o quella che è la situazione insomma ma quello che io dico soprattutto è il fatto che ci sta troppa confusione anche da un punto di vista del discorso della scuola di aprire oggi chiudere domani cioè ormai dobbiamo capire che se la situazione non la possiamo gestire allora continuiamo con la dad altrimenti cerchiamo di andare in presenza però lavorando tutti per la sicurezza. Nella speranza che non vengano commessi gli errori del passato a partire dalla riapertura ostinata imposta data fissa lo scorso 14 settembre dalla ministra dell'istruzione lucia zolina al mario pagano dalla logistica alle attrezzature banchi a rotelle compresi è tutto pronto. Noi abbiamo praticamente tutti gli arredi a disposizione anche i banchi monoposto e tra l'altro ci siamo anche resti autonomi per quanto riguarda i tamponi per esempio ieri pomeriggio sono rientrati tutti i convittori e il medico ha fatto i tamponi a tutti e quelli che venivano fuori regione.